Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio, sempre in ottica anche prospettica per cercare di avere tutti quanti noi il meglio delle possibilità per cercare di vincere al fantacalcio. Analizziamo in queste ore, in questi giorni, anche i giovani talenti migliori che si stanno esprimendo, che si esprimeranno soprattutto nei prossimi i fantacalcio, quindi negli anni a venire, quindi video importanti, video che evidentemente sono un po' più complicati da essere seguiti perché magari si fa po' più fatica a capirne oggi l'essenza, ma vi invito come sempre a fare un passaggio importante, cercare di vederli fino in fondo, abbonarsi al canale per essere sempre aggiornati e appunto fare con continuità una sponsorizzazione al veterano che tramite i passaparola di positività e appunto questi passaggi tramite i like, le condivisioni e i commenti ai video. Oggi parliamo di Urbanski, giocatore del Bologna, giovane e molto giovane, diciamo avermi per lui, un giocatore non molto alto, 1,78, è un trequartista mediano, centrocampista di destra o anche di sinistra, vedete appunto anche nella heat map come è stato impiegato da Tiago Motta quest'anno, è un giocatore di piede destro, è sotto contatto con il Bologna, fino a giugno 2025, giocatore che quest'anno ha avuto diverso impiego, 20 presenze, 8 addirittura da titolare per Tiago Motta che comunque gratifica sempre moltissimo i giovani. Parliamo dunque di Urbanski, è un giocatore che come detto non presenta un fisico forte e robusto, piuttosto gracilino e rongilinio e come detto in mancanza di questa prestanza fisica che garantisce appunto tanti duelli corpo a corpo non tanto vincenti, il giocatore va a sopperire con la sua grande intelligenza tattica, con intelligenza anche motoria, coordinazione motoria molto molto buona, grande astuzia e quindi è un giocatore che è dotato di grande velocità e che si contraddistingue per la sua agilità in campo. Davvero col dribbling è molto 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 agile nello stretto, tiene botta ai contrasti con giocatori anche più fisici e grazie alla sua astuzia va appunto ad essere anche elegante nei movimenti in campo. È un giocatore che spicca su diversi fronti a partire come detto dal dribbling che risulta essere davvero molto interessante, molto ficcante e gli permette di avere complessivamente situazioni in campo importanti anche per i compagni di campo. Un calciatore che ha una grande visione di gioco, la sua regia si traduce tante volte anche in verticalizzazioni interessanti per andare poi negli ultimi venti metri ed essere davvero davvero letale per i suoi compagni di reparto. In Serie A come detto ancora non ha avuto bonus, questo è solamente un caso perché poi arriveranno sicuramente, il suo ruolo naturale è quello di essere un trequartista puro, può essere anche impiegato come mezzala, può essere impiegato come esterno come ha fatto Tiago Motta. È un giocatore che sfrutta molto bene sia le fasce verticali sia le fasce orizzontali, va a recuperare il pallone, non ha paura di farsi ricevere il pallone sui suoi piedi e guadagna tantissime punizioni e cerca sempre il dialogo con i compagni di squadra. Un po' di contro ci sono, sicuramente è un po' testardo, certe volte non va a prendere le soluzioni migliori ma questi saranno sicuramente segni evidentemente migliorabili per il futuro perché evidentemente ha tanto futuro avanti a sé, i suoi pregi quindi sono l'agilità, il dribbling, le doti palistiche, la visione di gioco, qualche difetto, la fragilità e come detto la testardaggine in alcune conclusioni, in alcune scelte. È un giocatore a cui piace andare anche a bonus, in primavera ha fatto 61 presenze, 11 gol e 8 assist, con la Nazionale Polacca anche under 19 ha fatto 18 presenze e 3 gol al suo attivo, quindi davvero un giocatore da avere nelle vostre cose, soprattutto se avete contatti plurinali, chiaramente da valutare, da verificare quale sarà la strada del Tegomotta che appunto pare essere segnata per un allontanamento, per un addio dal Bologna, ma chiaramente Urmaschi avrà tanto, tanto, tanto talento per il futuro. Io vi abbraccio presto e vi auguro una buona giornata e a prestissimo dal veterano. Ciao ragazzi!